Buongiorno e bentrovati all'appuntamento con l'informazione di Icaro Tg, un episodio di cronaca piuttosto inquietante. Una donna è stata legata e imbavagliata da dei rapinatori che le hanno svaliggiato casa. È successo qualche giorno fa in un condominio di Via Dario Campana. La donna è stata imbavagliata con mani e piedi legate, con delle corde e una cintura. I banditi le hanno svaliggiato casa portando via oro con tanti e cellulare. È durato un quarto d'ora. I rapinatori, due uomini che hanno agito col volto nascosto da mascherina e cappellino, sono entrati in azione verso le 17.30. La signora stava uscendo per fare la spesa, ma appena ha aperto la porta è stata afferrata e riportata con la forza all'interno. Mentre uno di loro la sorvegliava vista, puntandole contro un cacciavite, l'altro rovistava negli armadi e nei cassetti. All'appello mancano tutto l'oro, i contanti e il cellulare. Poi sono fuggiti. La squadra mobile di Rimini sta cercando appunto di ricostruire la vicenda e di individuare i rapinatori. Il sospetto è che avessero organizzato tutto nei minimi dettagli. Sul portone d'ingresso della palazzina ci sono ancora i segni del cacciavite utilizzato per scardinare la serratura. Per quanto riguarda la cronaca giudiziaria, una maestra accusata di maltrattare i piccoli alunni, era stata denunciata da una collega, è stata scagionata. Sono cadute le accuse nei confronti di una maestra di una scuola comunale per l'infanzia di Rimini che nel 2019 fu sospesa dall'amministrazione comunale per 15 giorni e poi trasferita ad altra mansione per dei presunti maltrattamenti nei confronti di tre bambini che all'epoca avevano 5 anni. Il GUP del Tribunale di Rimini, Vinicio Cantarini, ha disposto l'archiviazione del reato alla 67enne maestra riminese oggi in pensione. Era stata una collega, una supplente, a segnalare una serie di presunti comportamenti inappropriati della donna. I maltrattamenti che sono poi stati smentiti comunque da altre colleghe ascoltate dagli inquirenti e dai genitori degli altri bambini. La donna era difesa dall'avvocatessa Milena Montemaggi. Ieri la cerimonia della consegna del Sigismondo d'Oro con il saluto di fine anno del sindaco Sadegolvada alla città e la consegna appunto del riconoscimento che quest'anno è stato conferito a Stefano Pivato, saggista, scrittore, ex rettore dell'Università di Urbino, professore universitario, ex assessore del Comune di Rimini e a Cartoon Club, il festival del fumetto che si tiene ormai da quasi 40 anni a Rimini. Abbiamo intervistato appunto i protagonisti del Sigismondo d'Oro. Un'emozione particolare perché non credevo ma il riconoscimento della tua città veramente crea tanta tanta emozione. Io ho partecipato, ho ricevuto premi letterari ma un conto è appunto fuori Rimini. A Rimini emoziona moltissimo. Come dice Cesare Povevese, un paese ci vuole, ci vuole per andarsene, ci vuole per tornare, ma ci vuole soprattutto per prendere stimoli. Perché io dico sempre che Rimini è una città curiosa, è una città, io non parlo mai a proposito di Rimini, poi è una parola che non mi piace, di identità, ma di identità plurali, perché Rimini ha saputo mettere assieme tutta una serie di realtà che difficilmente si trovano fuori la cerchia riminese. Qual è il pregio di Rimini e qual è il difetto di Rimini? Ma il difetto lo dico subito, ci sono certe punte di provincialismo. Il pregio è che è una città che sa abbracciare, è una città coinvolgente come poche. Si direbbe quasi che il senso dell'ospitalità, il senso dell'ospitalità che dura da oltre un secolo e mezzo abbia permeato il senso comune, abbia determinato questa antropologia che appunto abbraccia. È indubbio che nel 1985 non avevamo alla minima idea che il Cartoon Club si sarebbe dimostrato un evento capace di attraversare gli anni, le tendenze e di diventare uno degli appuntamenti stabili della nostra città. Tanta emozione, tanta emozione e anzi mi auguro proprio di riuscire anche a contenerla perché è un'emozione che non mi aspettavo e quindi né io né il mio gruppo, ci aspettavamo un riconoscimento così. Ripaga anche di tanti sacrifici che abbiamo fatto in questi anni perché comunque sostenere il festival, portarlo a casa, ha avuto anche dei momenti difficili in cui ci siamo anche detti basta, è l'ultimo anno, fermiamoci, ormai siamo grandi, però nessuno ci crede in effetti a quello che diciamo e ogni anno siamo di nuovo lì a costruire un evento che porta in città anche i più grandi nomi del cinema d'animazione e del fumetto, abbiamo portato personalità e abbiamo portato anche il festival all'estero, portando il cinema d'animazione e il fumetto ma soprattutto portando Rimini. E ha detto il sindaco Sede Golvad nel suo discorso, parlando appunto di Pivato e di Cartoon Club, sono le loro vite e percorsi professionali del tutto differenti, accomunate però da un desiderio di avventura. Guardare e ascoltare senza pregiudizi, una canzone o un'impresa sportiva possono avere la potenza di mille missioni diplomatiche. Una tavola di fumetto può incidere su un argomento più e meglio di 100 trattati universitari. Queste alcune delle parole di Sede Golvad che ha ricordato nel bilancio del 2023 ovviamente il peso dell'alluvione, ha anche ricordato l'importanza dei cantieri come quelli per la nuova viabilità, le nuove rotatorie sulla statale adriatica che richiedono ancora pazienza da parte dei riminesi, ha ricordato gli investimenti principali come quello del piano casa e poi ha ringraziato tutti i riminesi e anche un ricordo commosso verso le persone cariche che ci hanno lasciato in questo 2023. Da Rimini andiamo in Alta Valmarecchia a Maiolo dove in questi giorni è in corso una particolare esercitazione per i vigili del fuoco riminesi. Vediamo. In questi giorni si sta svolgendo a Maiolo un addestramento tecnico dei vigili del fuoco per manovre speleo alpino fluviali con calata e recupero di gommone ed operatore dal cavalcavia. All'addestramento è interessato tutto il personale già formato in precedenza tramite specifici corsi regionali. Attualmente al comando di Rimini sono 34 i soccorritori fluviali pronti a partire per chiamate di calamità su tutto il territorio nazionale. In tema di prevenzione alle emergenze, mercoledì alle 12 ci sarà un test di allarme per la popolazione di Misano, San Giovanni Marignano e Cattolica che riguarderà un ipotetico collasso dello sbarramento della struttura della diga del Conca con onda di piena e inondazione delle aree a valle. Un messaggio di test arriverà sui cellulari dei cittadini dei quattro comuni ma potrebbero ricevere la notifica anche i cittadini di Riccione, Coriano, San Clemente, Morciano, Saludecio, Gabicce Mare, Gradara e Tavullia. E quindi domani questo test, questo sms che non deve restare ovviamente nessun allarme, parliamo di riqualificazione alberghiera e dei fondi che sono stati messi a disposizione tramite la regione, un numero, quello appunto degli interventi che nella provincia di Rimini è più alto per quanto riguarda l'Emilia Romagna, vediamo. Sono 147 per un importo di oltre 65,4 milioni di euro i progetti provenienti dalla provincia di Rimini ammessi al bando della regione Emilia Romagna per la riqualificazione di alberghi e strutture ricettive. Complessivamente i progetti ammessi sono 320, quindi dalla Riminese ne arriva quasi uno su due. A seguire ci sono Ravenna con 51 e Forlicesena con 36. La regione, dopo il boom di domande presentate al bando, chiuso a settembre, ha deciso di investire ulteriori 15 milioni portando il fondo disponibile a 35 milioni di euro e con l'impegno ad individuare ulteriori risorse per raggiungere quota 45 milioni il prossimo anno. L'investimento complessivo, tra risorse private e pubbliche, supera i 145 milioni. Il bando punta a rendere più moderne e competitive le imprese turistiche e gli alberghi, partecipando ai costi per migliorare strutture e qualità dei servizi, con un occhio alla sostenibilità ambientale e sociale. I contributi a fondo perduto permetteranno di coprire fino al 30% delle spese, a cui si aggiunge un ulteriore 10% per i progetti che prevedono ad esempio nuove assunzioni a rispetto della parità di genere, interventi per la disabilità e riduzione nella produzione di rifiuti. 320 progetti presentati dall'impresa alberghiere della nostra regione, un segno di vitalità, di voglia di investire, segno appunto che il settore è forte, dinamico e ha voglia di crescere ancora di più ed è giusto che una regione come la nostra che ha fatto del turismo uno degli assi portanti del proprio sviluppo colga appunto questa dinamicità del settore e accompagni gli investimenti con dei contributi pubblici. Parliamo di qualità dell'aria e di meteo perché sono in vigore, oggi e lo saranno anche domani, le limitazioni anti-smog che riguardano i divieti, i limiti di circolazione per i veicoli più inquinanti e anche limitazioni al riscaldamento. Ieri le micropolveri a Rimini sono state di poco sotto il limite di 50, il valore di PM10 è stato di 49, domani ci sarà il nuovo bollettino di ARPA che sancirà appunto la prosecuzione o meno di queste misure emergenziali che sono legate ovviamente anche alle condizioni meteo e allora diamo un'occhiata a quello che è il meteo di questa parte centrale della settimana. Oggi cielo sereno con temperature ampiamente sopra le medie stagionali, 16 gradi la massima che si registra oggi in provincia di Rimini sui rilievi oltre il doppio della media stagionale. La tendenza per domani sempre quella di cielo sereno, poco nuvoloso ma con velature e foschie, temperature in discesa saranno di 10 gradi le massime appunto previste per domani. La tendenza per giovedì è sostanzialmente una situazione analoga, cielo sereno, poco nuvoloso con foschie, una temperatura massima di 11 gradi, minime che ancora resteranno di qualche grado sopra lo zero. Si è chiusa ufficialmente con il concerto di Venditti e De Gregori dei giorni scorsi la stagione degli eventi dello Stadium riminese, Stadium che ha avuto diversi nomi e che come è noto dal prossimo anno, dal prossimo gennaio, subito dopo le feste, vedrà l'inizio dei lavori per diventare la nuova casa della Federazione Nazionale di Danza e allora a 20 anni dall'avvio appunto della propria attività la struttura riminese, in particolare la gestione guidata dall'amministratore Ernesto De Filippis, trae il suo bilancio. Vediamo. 1.420 dal 2003 al 2023 per un totale di 5.000 giornate di programmazione. Si calcola che l'attività dello Stadium, prima 105 poi RDS, abbia prodotto un indotto economico sul territorio di 30 milioni di euro. Sul fronte di comunicazione e promozione sono stati fatti investimenti per 5 milioni. Lo Stadium ha fatto da trampolino di lancio per la partenza di tour di artisti come Giovanotti, Pausini, Ramazzotti, Tiziano Ferro, Zucchero, Ligabue, Negramaro, Morandi, Ippu, Baglioni, solo per citarne alcuni, e ha ospitato star internazionali del calibro di Steve Vai, Brian Adams e i prodigi. Sono state ospitate diverse trasmissioni televisive in prime time che hanno avuto per protagonisti ospiti come Panariello, Morandi, La Pausini e Baglioni. Tra le manifestazioni sportive, oltre ad alcuni campionati del basket Rimini in Serie A, le Final 8 di Coppa di Basket A1, la Federation Cup di Tennis, le Final Four di Coppa Italia di Volley, le finali dei campionati di scherma. Al capitolo musical e spettacoli comici si citano Jesus Christ Superstar. Alice nel Paese delle Meraviglie aggiungi un posto a tavola, We Will Rock You, Holiday on Ice, gli spettacoli di Pintus, Zalone, Brignano e Grillo, l'area Convention, infine, ha ospitato eventi di brand nazionali e internazionali. Siamo in conclusione, vi ricordo il nostro sito di informazione newsrimini.it e la nostra piattaforma video Icaro Play. Grazie a tutti voi per averci seguito, dalla redazione ancora l'augurio di una buona giornata. Grazie a tutti.